Prima però ancora un momento di incontro e di conoscenza. L'incontro è con Ambrogio Fasoli, professore di fisica al Politecnico Federale di Lausanne e direttore dello Swiss Plasma Center. Il tema è un tema di grande attualità perché parliamo di energia o meglio di come produrre energia attraverso la fusione nucleare e anche qui l'intelligenza artificiale ci può venire in aiuto, lo scopriamo con Ambrogio Fasoli. Buongiorno, un grande piacere e onore essere qua con voi per questa giornata Möbius. Vi farò fare un piccolo viaggio attraverso le nostre ricerche spiegando che cos'è la fusione nucleare che è la sorgente di energia di tutte le stelle, spiegando perché e come cerchiamo di riprodurla sulla Terra. Il perché è forse chiaro a tutti ma mi piace motivare un po' voi e me stesso con due o tre osservazioni. La prima è visuale, completamente visuale. Questa è la carta del mondo modificata in proporzione all'energia. Cosa vuol dire? Che ogni paese è rappresentato ma la sua superficie è modificata in proporzione all'energia che viene usata per ogni persona del paese. e mi piace guardare questa carta, non mi piace, forse diciamo mi motiva a guardare questa carta perché sottolinea la divisione fra quello che si chiama il nord del mondo e il sud del mondo. Noi vediamo i paesi gonfiati alla grande da questa rappresentazione e i paesi o interi continenti come quello africano che quasi scompaiono. Questo ci dà un'idea di quanto sia ingiusta oggigiorno la distribuzione dell'utilizzo di energia e ci dà anche un'idea che quando noi lavoriamo per l'energia del futuro non lavoriamo per noi stessi, non lavoriamo per la Svizzera, Liechtenstein o neanche l'Italia che è il mio paese d'origine, lavoriamo per tutto il mondo. La seconda immagine che voglio mostrare è l'immagine che rappresenta le diverse sorgenti rinnovabili. Noi non siamo in competizione con le rinnovabili, siamo in supporto in parallelo alle rinnovabili. Non c'è dubbio che dobbiamo andare verso le rinnovabili più velocemente possibile. Ma non c'è neanche dubbio che per il problema dell'energia le rinnovabili da sole non sono forse l'unica possibilità. Mi piace anche mostrare un grafico che è forse un pochino complicato ma che è un grafico di attualità. Perché mostro questo grafico? Questo è l'esempio della Germania, un paese di cui si sa tutto, quindi si possono avere i dati in maniera molto chiara. Noi sappiamo che la Germania ha deciso, dopo Fukushima, di uscire dal nucleare convenzionale e che ha investito centinaia di miliardi di euro per appunto sostenere le fronte rinnovabili. Che cosa molto virtuosa naturalmente. Al giorno d'oggi ci sono 150 miliardi di watt disponibili sotto forma di energie rinnovabili e quindi uno dice, fantastico, la Germania ha bisogno di circa 60-70 miliardi di watt, siamo a posto, non abbiamo bisogno di niente altro. No, perché non è così. Perché quando si parla di potenza installata delle energie rinnovabili bisogna dividere per un grande fattore per avere la potenza che viene realmente messa a disposizione. Allora la curva in viola qua è la curva del consumo, quindi quella che ci dice cosa utilizza la Germania. Questo è il mese di agosto, il mese di agosto passato, che faceva piuttosto caldo in Germania, c'era anche un bel tempo, tanto sole e poco vento. L'energia del vento è in blu, l'energia del sole è in giallo. Allora a mezzogiorno, tanti giorni, l'inizio di agosto faceva evidentemente più bello in Germania che a fine agosto. A mezzogiorno sì, fantastico, c'è abbastanza energia solare, funzioniamo energia solare, che bello. Il 3 agosto, il 7 agosto c'era anche un bel vento, benissimo, abbiamo addirittura forse più energia di quella di cui abbiamo bisogno, ma tutti gli altri giorni e tutte le altre ore del giorno abbiamo bisogno di qualcosa altro. La Germania cosa ha fatto? Ha deciso di uscire dal nucleare e ha costruito centrali a carbone e centrali a gas, quindi centrali basate su combustibili fossili, bruciando, 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 quindi creando gas effetto serra. Direte che bello, siamo un po' più al caldo, il mare è più caldo, i laghi sono più caldi, io ieri ho notato il lago di Ginevra, bellissimo, però è un problema gigantesco, come sapete, per il clima del nostro pianeta. Quindi tutta questa zona bianca che è nel grafico, tutto quello che è bianco sotto alla curva violetta è energia di combustibili fossili, quindi energia che mette un'ipoteca sul futuro del nostro pianeta. Non è tollerabile fare questo, non ha senso nel 2023 basarsi su questo e non ha senso basarsi su questo nei prossimi anni, per i prossimi decenni. Dobbiamo trovare alternative, sappiamo che c'è un'enorme urgenza climatica, ci sono anche altre urgenze geopolitiche, perché l'energia dei combustibili fossili non è distribuita tanto uniformemente, ci sono alcune parti del mondo particolarmente complicate o particolarmente soggette a caratteri di individui particolarmente complicati, senza far nomi, ed è lì che si trova il gas, ed è lì che si trova il petrolio, eccetera. Quindi noi non vogliamo dipendere da questo, vogliamo un mondo che permetta ai paesi che erano tutti magri nella rappresentazione di prima di diventare, di riassumere la loro taglia normale, sviluppandosi, sono fra l'altro i paesi in cui c'è sviluppo demografico. Dobbiamo farlo in maniera uniforme, in maniera giusta, in maniera pacifica e in maniera senza mettere un'ipoteca sul futuro del nostro pianeta, cioè in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile. E mi permetto di proporre, di guardare all'interno delle alternative alle sorgenti convenzionali. Guardiamo all'interno del nucleo, ho pochissimi grafici tecnici, questo è uno un pochino tecnico, ma mi permetto di spiegare. All'interno del nucleo abbiamo due possibilità. prendiamo dei nuclei grandi e complessi e li spacchiamo, ci lanciamo contro un piccolo proiettile che è un neutrone, questo spacca un nucleo che già era un po' instabile, il nucleo per esempio di uranio diventa due nuclei più piccoli, ancora instabili loro stessi, che a loro volta producono neutroni e quindi sarà una reazione a catena. Questa è la fissione nucleare che è stata capita relativamente recentemente e che rapidamente ha dato luogo a reattori e a fissioni e come avete visto forse nel film Oppenheimer anche ad altre conseguenze molto meno pacifiche. Perché la reazione di fissione dà luogo a energia? Perché si scende in questa curva e si va verso elementi più stabili, quindi elementi più stabili come il ferro, che è il più stabile di tutti, voglio dire che stanno insieme più facilmente, non hanno bisogno di energia e quindi l'energia di cui non hanno bisogno la rilasciano. Scendiamo sulla curva e aggadagniamo quindi un po' di energia o emettiamo un po' di energia. La cosa opposta da fare è mettere insieme nuclei piccoli, nuclei di idrogeno, il più piccolo che c'è, un protone, non c'è niente di più piccolo, dal punto di vista dei nuclei e formare nuclei leggermente più grandi ma ancora piccoli, per esempio elio, il gas col quale si gonfiano i palloni dei bambini e rilasciare facendo questo un'enorme quantità di energia. Dico enorme perché vedete che si scende in maniera più rapida nella curva, quindi si emette ancora più energia che nella fissione. Questa è la fusione nucleare. Non ci sono scorie perché il prodotto è dell'elio e si guadagna ancora più energia. E vedete la formula fisica che tutti conoscono, con il personaggio che tutti conoscono anche Einstein, è uguale a mc4, vuol dire che l'energia e la massa sono la stessa cosa, vuol dire che se io perdo un po' di massa, cosa che succede appunto nelle reazioni nucleari, posso emettere dell'energia. È questo che succede nella reazione di fusione. Allora, è la reazione di fusione, abbiamo capito circa cento anni fa, che è quella che fa funzionare tutto l'universo. Le stelle funzionano a fusione, la nostra stella, il sole, funziona a fusione. Funziona a fusione facendo nella parte centrale, nel suo cuore, una zuppa ad altissima temperatura e permettendo quindi ai nuclei di avvicinarsi uno all'altro. Allora, l'idea, e quello di cui vi parlerò oggi, è di agire come promette i moderni, non come Oppenheimer, perché nel film Oppenheimer e anche nella storia si chiama Oppenheimer il prometteo moderno. Io mi permetto di dire no, non è lui il prometteo, perché non è che voglia portare il fuoco della terra, il fuoco delle stelle sulla terra, o degli dèi, come diceva appunto Prometeo. Lui vuole portare le esplosioni, voleva portare le esplosioni sulla terra, che è ben diverso. Noi vogliamo portare il fuoco sacro degli dèi sulla terra. Gli dèi non sono tanto d'accordo, ce lo rendono difficile, perché è una sfida molto difficile per questioni scientifiche, tecnologiche, ma vogliamo farlo per il bene dell'umanità. Penso che Prometeo, povero Titano, non è finito benissimo, però lui stesso voleva farlo per il bene dell'umanità. Perché è difficile farlo? Perché, prima di tutto, da punto di vista fondamentale, questi nuclei non hanno voglia di stare insieme, di fondere, hanno voglia di respingersi, perché sono carichi positivamente. Ricordate che le cariche dello stesso segno si respingono. Quindi dobbiamo farle avvicinare molto, molto violentemente, a grande velocità, perché possano arrivare così vicine che la forza nucleare prenda il sopravvento rispetto alla forza di repulsione elettrica e che quindi si possa avere la reazione di fusione. Avvicinarsi molto, muoversi in maniera disordinata molto velocemente, avere degli scontri energetici a livello microscopico, cosa vuol dire? Vuol dire avere altissime temperature. Questo non vuol dire i 40 gradi di cui abbiamo sofferto quest'estate, questo vuol dire 50, 100, 150 milioni di gradi. Quando voi dite 150 milioni di gradi non può esistere niente. Non può esistere lo stato solido, perché fonde, non può esistere lo stato liquido, perché evapora, e non può esistere neanche lo stato gassoso come lo conosciamo, come l'aria che respiriamo, perché tutto viene dissociato, tutto viene separato, cioè gli elettroni da un lato, i protoni e i componenti del nucleo dall'altro. È una specie di zuppa in forme di cariche separate che si chiama il plasma. Ed è questo che si è capito che è all'interno delle stelle ed è questo che in realtà è lo quarto stato della materia, sembra molto esotico sulla Terra, ma in realtà praticamente tutto l'universo che conosciamo è fatto di plasma. Tutte le stelle sono dei plasmi, quindi dei reattori a fusione. Lo spazio fra le stelle è fatto di poco, ma di plasma. Le ammassi, le stelle sono ammassi di grandi plasma, eccetera. Tutto l'universo che conosciamo praticamente è fatto di plasma, tranne noi. Noi non siamo fatti di plasma. Noi non vogliamo essere separati nei nostri nuclei, nelle nostre cellule, al contrario, cerchiamo di evitarlo, ma siamo una piccola parte dell'universo. Noi dobbiamo ricreare una piccola stella sulla Terra per tirarne energia pulita. La reazione che vogliamo utilizzare è un po' più rapida di quella che utilizza il Sole. Il Sole ha il lusso di avere molto tempo, perché l'energia che produce e che viene da noi partendo dalla superficie del Sole è prodotta decine di migliaia di anni fa nel suo centro. Noi non abbiamo questo tempo, non posso dirvi. Ragazzi, noi sappiamo fare un piccolo Sole, fra 25 mila anni avremo l'energia per le nostre città, perché da 25 mila anni non ci saranno città, se continuiamo così. Dobbiamo farlo molto più velocemente e dobbiamo farlo in maniera più furba del Sole, perché il Sole è grosso, pesante, quindi tieni insieme questo quarto stato della materia, questa zuppa che vorrebbe scappare da tutte le parti, che appunto chiamiamo plasma, tramite la sua forza gravitazionale. Dobbiamo essere più creativi rispetto al Sole. Non è facile, ed è per questo che lo facciamo tutti insieme, e quando dico tutti insieme lo dico la Svizzera, l'Europa e una buona parte del mondo. E lo facciamo da circa 60 anni in maniera aperta, perché circa 60 anni fa, nel 1958 esattamente, neanche io ero ancora nato, a Ginevra, alle Nazioni Unite c'è stata la prima conferenza sull'uso pacifico dell'energia nucleare. E se c'è un uso pacifico dell'energia nucleare è questo, energia da fusione. Quindi si è detto, basta segreti, lo dobbiamo fare tutti insieme, è difficile, mettiamoci tutti apertamente in collaborazione. E da allora ci si sono battuti, mi batto da qualche decennio, per ottenere questa sorgente, perché è una battaglia che vale la pena di combattere, perché ci sono dei potenziali giganteschi. Prima di tutto c'è un'enorme densità di energia. A voi vedete qui uno stadio di calcio, direte, ma cosa c'entra? Prima di tutto per sottolineare la mia vera aspirazione quando ero ragazza, è andata come è andata, ma ho anche una volta giocato a San Siro quando ero piccolino. E secondo la mia fede calcistica, che come vedete lo stadio di San Siro, l'ho preso l'immagine adibito a rosso-nero, non nera-azzurro. Però il punto è questo. Milano, la mia città, un milione e mezzo di abitanti, la voglio alimentare in energia per un anno. Ho bisogno al giorno d'oggi di bruciare, purtroppo, di bruciare del carbone, ho bisogno di riempire lo stadio di San Siro fino al terzo anello compreso, tutto raso-raso fino a cima di carbone per un anno. Immaginate quanti migliaia di treni sono che arrivano a Milano portando carbone, non è proprio una bella immagine. Se, anzi dirò, quando funzionerà la fusione, voi in questa immagine non riconoscereste neanche il sacco che porta il combustibile di fusione, perché sarà un sacco, o un piccolo barile, ci sta nella mia macchina per un anno di energia, per un milione e mezzo di persone. Questa è la differenza. Ed è un game changer, come si dice in inglese. Il combustibile ha un'enorme quantità di energia in sé, quindi è praticamente inesauribile. Che siano 722 mila anni o 721 mila anni, a me cambia poco. Io lo chiamo praticamente inesauribile. L'impatto sull'ambiente è molto ridotto, non ci sono combustioni di nessun tipo, non ci sono scorie radioattive della reazione, c'è un'attivazione delle strutture, ma a seconda della nostra capacità di fare materiali avanzati, questa può essere eliminata o ridotta moltissimo, soprattutto nella sua durata. È un'energia concentrata, non ho bisogno di occupare tutta la Svizzera per dare energia alla Svizzera, cosa che sarebbe il caso di altre energie. E soprattutto non è un'energia intermittente, che è il problema cruciale delle rinnovabili. Non è che io devo aspettare che faccia bello o brutto la notte, mezzogiorno, il vento, eccetera. Accendo quando voglio, spengo quando voglio. E l'altro punto è che nel nostro approccio, che è l'approccio che descriverò, non c'è nessun interesse militare, nessun interesse di sviluppo di armi nucleari, nessun interesse strategico al di là dell'energia pulita. E a ogni momento, vista l'enorme quantità di energia contenuta nel combustibile, ci sono dei grammi di combustibile, quindi qualsiasi cosa succeda ci sono solo dei grammi da gestire. Quindi è molto più semplice che gestire un reattore a fissione, che invece ha una grossa quantità di materiali di fissione, che è radioattivo, i trasporti sono complicati. Nel nostro caso non c'è nessuno di queste complicazioni. Allora perché non l'abbiamo? Perché è difficile, come ho detto. Non siamo grandi come il Sole. Abbiamo due modi di farli, dimenticando la gravitazione. Uno è tramite campi magnetici, ed è quello che noi sviluppiamo in Svizzera e in Europa. E un altro è tramite, che cosa? Tramite delle piccole mini bombe nucleari. E già il termine non mi piace, naturalmente. Non li chiamiamo dei pellet, sono delle pilloline che possono implodere ed esplodere, dando luogo a delle razioni di fusione, come appunto una bomba termonucleare. Non è quello che perseguiamo, ma vi mostro un piccolo video, perché è stata una delle notizie dell'anno scorso, degli ultimi mesi in realtà, che tramite questo approccio si è prodotta più energia di quella che si è iniettata nel plasma. Vi mostro questo film, che è un piccolo video di quello che succede nel laboratorio che al mondo è il primo in questo approccio di fusione tramite mini bombe, che si chiama fusione inerziale. Sostanzialmente non si tiene il plasma insieme con delle idee complicate, lo si lascia lì e si fa una cosa velocissima prima che scappi via. La cosa velocissima è una piccola implosione generata da 192 raggi laser, i più potenti al mondo. Qui vedete la sala di controllo di questo laboratorio che si chiama Livermore National Ignition Facility in California. Voi create questi raggi laser 192, vengono amplificati su lunghi passaggi e modificati in frequenza su una lunghezza per parlare sempre di tre campi di calcio, avanti e indietro, avanti e indietro, eccetera. Dopodiché vanno a essere iniettati su una piccola pillolina, che è grande come una pupilla di un occhio, vedete che arrivano tutti insieme, rigorosamente tutti insieme, quando dico tutti insieme, al miliardesimo del milionesimo di secondo, su questa piccola pillola che viene sospesa attraverso un sistema particolare criogenico, quindi siamo quasi lo zero assoluto, in una piccola cameretta d'oro all'interno di questa grande camera e vedete quello che succede, adesso vedrete i tempi, in miliardesimo di secondo viene tolta la superficie di questa pillola e il resto viene fatto implodere ed è questo l'approccio inerziale, si chiama. Questa implosione ha dato luogo qualche mese fa a più energia di quella che è stata utilizzata per crearla, non all'energia presa dalla presa, ma all'energia iniettata, quindi siamo ancora un po' lontani dal reattore. Secondo me è un approccio un po' complicato, fra l'altro è sponsorizzato dal Dipartimento della Difesa, non è una grande sorpresa perché che cos'è? È una simulazione in una piccola bomba termonucleare. È stato molto pubblicizzato perché è una prodezza scientifica e tecnologica un po' difficile immaginare un reattore che faccia queste esplosioni, non una volta al mese, ma 20-30 volte al secondo. E per darvi un'idea anche della difficoltà di pensare che sia un reattore per usi civili, per me personalmente, questa pillola è fatta da un materiale che è praticamente del diamante artificiale. Dentro ci sono i combustibili allo stato solido, quindi raffreddati allo zero assoluto quasi. Intorno c'è una schiuma di cui non si sanno bene i dettagli e il tutto viene messo in una cameretta d'oro, quindi questo viene fatto esplodere. Costa circa, immagino, 60-70 mila dollari. Deve costare qualche centesimo perché possa essere un reattore che vende elettricità, quindi siamo un po' lontani. Invece siamo più vicini, secondo me, con l'approccio che noi perseguiamo in Svizzera e in Europa, che è l'approccio magnetico. Il plasma è fatto di cariche elettriche, quindi senza entrare in dettagli di fisica ve lo prometto, le cariche elettriche sono soggette alle interazioni con il campo magnetico. Vengono prodotte dal campo magnetico, vengono intrappolate dal campo magnetico o vengono espulse dal campo magnetico. Per esempio, perché noi non abbiamo il plasma sulla Terra? Il Sole ce ne sbatte addosso delle quantità gigantesche, ma noi siamo protetti da nostra gabbia, se no non esisteremmo, saremmo tutti fusi immediatamente, da nostra gabbia fatta dal campo magnetico della Terra, che è il polo nord e il polo sud, il quale espelle il plasma, fa in modo che il plasma del Sole, per esempio, o di tutte le altre stelle, non venga dentro di noi, tranne delle piccole quantità che sono fra l'altro belle da vedere, le aurore boreali australi. L'idea è di fare, ancora una volta, come la natura, di prendere il campo magnetico e dire no, non lo voglio usare per schermarmi dal plasma, lo voglio usare per imprigionare la mia stella, la mia piccola stella che vuole andare da tutte le parti. Quindi creiamo una gabbia di campo magnetico, vi faccio grazie ai dettagli che sono piuttosto complicati, che tenga questa stella il più a lungo possibile. E negli anni 50 del secolo scorso è stata creata dai russi, fra l'altro si chiama Tokamak, la miglior gabbia che finora abbiamo inventato. Tokamak è un nome, un acronimo russo, appunto, e risponde a un insieme di campi magnetici, di cui vi faccio grazie, ma di cui questa è un'immagine, fra l'altro questo è nel nostro Tokamak, al nostro Svizzero, a Lausanna, con le particelle, con tutte queste piccole parti della stella che vengono in qualche modo intrappolate, abbastanza a lungo. Quindi ci siamo, sappiamo intrappolarla, sappiamo anche riscaldarla. Cosa rimane da fare? Dobbiamo intrappolarla tanta, tanta stella, riscaldarne tanta stella e tenerla lì abbastanza a lungo. Queste tre cose insieme ancora non ci siamo completamente, ma ci siamo quasi. Ci siamo quasi perché questo grafico, noi veniamo criticati, la fusione se ne parla tanti anni, ogni volta diciamo che siamo qualche anno, sì, è una cosa lunga, è una cosa transgenerazionale, non è così semplice, ma se guardate i progressi che abbiamo fatto sono più rapidi che i progressi nella capacità di calcolo di un chip, quindi siamo abbastanza veloci relativamente parlando. Siamo stati capaci di immediatamente creare decine di milioni di gradi, poi l'abbiamo fatto per un tempo più lungo, poi siamo per un tempo sempre più lungo e siamo quasi al punto di tirarne più potenza fuori di quella che iniettiamo. E quando dico siamo, parlo al plurale, con conoscenza di causa, perché lo facciamo tutti insieme, prima di tutto in Europa, e questo è il consorzio a cui noi apparteniamo, in maniera un po' complicata data la politica fra Svizzera e Europa in questo momento, ma ci siamo lo stesso, fra l'altro ho l'onore di Persiedolo in questo momento, come rappresentante della Svizzera, quindi immaginate l'apertura che c'è in questo campo. Il consorzio contiene anche il Regno Unito, anche la Norvegia, nessuno dei due è nell'Unione Europea, e anche l'Ucraina, quindi vedete che si lavora con gli ucraini, con i russi, con i cinesi, con tutti insieme. Siamo 29 paesi, eccetera. Quindi abbiamo quest'idea che viene tutto fatto in maniera collettiva. La cooperazione europea vuol dire che ogni, non vuol dire che la Germania o la Francia abbiano un esperimento che domina tutti, o un'idea che domina tutti, vuol dire che tutti apportano il loro contributo, chi più chi meno in termini d'Italia, ma tutti portano un contributo per dare queste dimostrazioni scientifiche che dobbiamo dare per poi costruire il reattore. E da non molto, stiamo ancora lavorando in questi giorni, forse abbiamo un altro annuncio, ora poco, non lo posso dire. Abbiamo battuto il record di energia diffusione mai prodotta sulla Terra, nel nostro esperimento europeo. L'esperimento europeo, per questioni storiche, è nel Regno Unito. Allora direte, ok, è un esperimento pseudo-europeo, sì, è un po' complicato, ma l'esperimento sta finendo i suoi giorni in questi giorni proprio, perché poi verrà chiuso. Abbiamo battuto il nostro record di energia diffusione, 60 milioni di J, di un fattore 2. Allora, io parlavo forse con qualcuno di voi un'altra volta, mi piace molto lo sport, quando si batte un record nello sport, lo si batte di una piccola percentuale, cioè il misurio dei 100 metri, non so, passa da 9,82, 9,79, già è una bella cosa. Noi siamo passati da 30 a 60. Quindi eravamo molto contenti di questo, vuol dire che abbiamo veramente fatto un passo verso il reattore e abbiamo confermato che lo si può fare. È una sforza a lungo termine. Noi in Svizzera siamo nel Corpo di Tecnico Federale, quindi siamo, come qui in questo bellissimo auditorio, in un ambito completamente accademico. Abbiamo nel mio laboratorio, ho 200 collaboratori, fra cui 55 studenti di dottorato e 30 postdoc, cioè giovani ricercatori. Prepariamo le nuove generazioni. E quando si parla di un esperimento transgenerazionale, si deve anche mantenere la motivazione. Non è facile tutti i giorni dire, ok, faccio un lavoro, però non è fra tre anni che vi darò l'elettricità nella presa. È fra un po' di più. Allora, mi permetto di fare una citazione che nella parte francese della Svizzera si usa sempre, on to an and 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 and, praticamente 80% delle citazioni. Ma questa è bella. Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna. dividere i compiti, impartire ordini. Ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. Questo per dire che noi dobbiamo non solo dare delle questioni tecniche da risolvere, ma dobbiamo anche continuare a ispirare per il lungo termine, perché è qui che si gioca la nostra battaglia. Lungo termine che però non è troppo distante. Dieci anni fa non avrei detto forse la stessa cosa con la stessa sicurezza, ma adesso la posso dire, perché stiamo per finire la costruzione e l'assemblaggio di ITER. ITER è una collaborazione globale, l'esperimento più grande mai fatto in fusione e forse è uno degli esperimenti più grandi nella storia dell'umanità, parlando di esperimenti per scopo pacifico. È un trattato internazionale che comprende l'Unione Europea, parte in principale, ma anche, spero di non dimenticare nessuno, la Cina, la Corea del Sud, il Giappone, l'India, la Russia e gli Stati Uniti d'America. È in costruzione nel sud della Francia. Qui vediamo uno spaccato, la grande stella è al centro, c'è qualche uomo, un personaggio, che quasi non vedete tanto grande è questa stella. è in fase finale della sua costruzione. Questo è il sito, se avete la possibilità, nel sud della Francia, vicino a Aix-en-Provence, visitatele, è una cosa impressionante. Forse è la cosa più ambiziosa che stiamo facendo come genere umano. La stazione spaziale internazionale costa di più ed è un mix fra scienza e forse relazioni pubbliche. Ma dopo la stazione spaziale internazionale praticamente c'è il nostro progetto, come taglia. Non sono riuscito, tutta la storia dell'umanità, non sono riuscito a trovare il costo delle piramidi, non è facile valutarlo, ma sono riuscito a trovarne altre e sono inferiori, compreso il CERN. Allora, ITER è questo esperimento in cui tutti portano dei pezzi e la costruzione è fatta soprattutto in kind, si dice in inglese, cioè i paesi portano i pezzi, non portano soldi. Perché è stato fatto questo? Non è forse la cosa più efficiente. Se avete visto ancora una volta il film Open Heimbrecht di gran moda, avete visto che per costruire la bomba hanno messo tutti allo Salamos, posto nel deserto, è un posto dove si fanno ricerca anche in fusione, oggi giorno. E hanno detto, voi praticamente non uscite da qua finché non avete risolto il problema tecnico e scientifico della bomba. questo perché? Perché lo volevano avere la bomba loro, cioè gli Stati Uniti d'America in questo caso. ITER è il contrario, è stato lanciato come progetto di pace alla fine della guerra fredda fra Reagan e Gorbachev come progetto di distensione. È stato deciso che doveva essere fatto in maniera collettiva, cioè che tutti i partner portavano dei pezzi. Perché questo è un progetto, è un modo di portare avanti un progetto di pace? Perché vuol dire che tutti i partner sviluppano la tecnologia e la capacità di costruire una sorgente di energia di fusione, senza avere poi il rischio di essere colonizzati da altri. Non è, perché dico che forse non è il modo più efficiente, perché sarebbe forse più efficiente appunto farla alla Los Alamos, ma al tempo stesso non sarebbe possibile farlo in maniera collettiva. Quindi è un po' un compromesso fra le due cose. In questo momento per cercare di accelerare stiamo cercando di avere un'unità centrale un po' più forte per migliorare appunto i tempi. Poi è come se qualcuno quando si sposa voi fate, dite ok, ognuno porta qualcosa, fate la lista di matrimonio cercando di indicare che cosa volete. Qualcuno porta una lavatrice, qualcuno una televisione, un'altra una televisione perché non ha guardato bene la lista, eccetera. Non è, sarebbe più efficiente avere semplicemente i soldi per comprare tutto, però sarebbe anche meno simpatico. It era un po' lo stesso concetto. L'assemblaggio in corso è il puzzle più complicato mai messo insieme dall'essere umano, sono, mi sembra, 20 milioni di pezzi all'avanguardia della tecnologia. Ogni pezzo è state of the art, cioè al limite di quello che noi sappiamo fare. In tecnologia, in precisione e in taglia, stiamo costruendo una porta aerei con la precisione di un orologio svizzero. Ho scoperto, perché io sono un fisico, non sono un ingegnere, ma ovviamente ci sono grandi aspetti di ingegneria. Ho scoperto che per esempio queste bobine che creano il campo magnetico, una delle grandissime difficoltà, sono bobine superconduttrici quasi allo zero assoluto, materiali che non esistevano abbastanza in tutto il mondo, abbiamo sviluppato l'industria per farlo, eccetera, eccetera. Una delle difficoltà, questa è la punta della tecnologia che sappiamo fare, è raddrizzarle, metterle in piedi, perché per montarle bisogna metterle in piedi. C'è una ditta al mondo che sa mettere in piedi delle bobine e la stessa tra l'altro che sa mettere orizzontali i sommergibili. Apparentemente i sommergibili sono costruiti verticalmente e bisogna mettere orizzontali. Questo per dire che siamo a livelli in cui anche gli elementi di logistica che uno può pensare triviali per un esperimento di fisica d'avanguardia diventano state of the art, diventano al limite. Non sappiamo come trasportare alcuni pezzi, alcuni pezzi vengono fatti sul posto. L'India, responsabile del criostro, cioè del frigorifero più grande del mondo, lo deve fare sul posto perché è troppo grande per essere trasportato dall'India. Altri pezzi sono trasportati al porto di Marsiglia e poi su dei convogli, su delle strade speciali che vanno a 3 km all'ora che prendono mi sembra 4-5 giorni, ma non guidate da quelle parti la notte ovviamente perché impazzireste. Quindi per dire che è un progetto di ambizione, di taglia e di difficoltà al limite di quello che sappiamo fare perché fare una stella sulla terra è difficile. ma bisogna farlo insieme e lo stiamo facendo e il progetto è quasi finito. Ma non è l'ultima cosa che faremo perché ITER dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione ma non dimostrerà ancora che possiamo creare l'energia l'elettricità e venderla. Vuol dire che dobbiamo crearla a un costo compatibile col mercato vuol dire che dobbiamo crearla in maniera che sia presente e disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno per 20-30 anni se no nessuno investirà. Questo non è ancora più difficile che fare l'esperimento scientifico che può fare qualche dimostrazione ogni tre mesi non lo so ma bisogna fare questo step perché il nostro scopo non è avere il premio Nobel anche se nessuno ci sputerebbe sopra però il nostro scopo è dare l'energia disponibile per le città per i paesi per gli ospedali questo è il progetto che si chiama DEMO almeno in Europa lo chiamiamo DEMO che sto lanciando cercando di convincere i miei colleghi che lanciano in parallelo a ITER perché se lo lanciamo in serie va troppo tardi nel tempo per centinaia di megawatt di potenza elettrica che forse non vi dice molto come quantità ma corrisponde diciamo a una città come Lugano o forse a tutto Cantonticino e con un combustibile che viene prodotto dallo stesso reattore quindi un ciclo completo dimostrazione fondamentale che ITER non farà quindi con DEMO noi noi sicuramente l'Europa sarà tutto insieme forse saremo insieme ad altri questo non è ancora completamente deciso dimostreremo che possiamo fare il reattore sulla Terra non come esperimento scientifico ma come sorgente di elettricità sicura non voglio entrare nei dettagli ma non è ancora tutto risolto dal punto di vista scientifico e tecnico naturalmente stennò non sarebbe ancora a livello di ricerca ci sono elementi da da migliorare bisogna migliorare come produrre il combustibile bisogna migliorare i materiali che non si attivino e che resistano alle temperature bisogna migliorare l'interfaccia fra la stella e la bottiglia che la tiene bisogna dimostrare che noi controlliamo questo plasma e qui mi permetto di aprire la parentesi sull'intelligenza artificiale siamo stati i primi a Lausanna non so se l'avete visto sulle news spero di sì l'anno scorso a controllare la piccola stella il plasma usando l'intelligenza artificiale era deep reinforced learning non è la mia la mia specialità ma abbiamo collaborato con con DeepMind che è un enorme laboratorio di Google il cui capo si chiama Dimitri Asabis forse il numero uno dell'intelligenza artificiale nel mondo che è venuto all'Ausanna diverse volte abbiamo collaborato con loro per dimostrare che questa stella poteva essere controllata con questa intelligenza artificiale per la prima volta ci abbiamo fatto insieme un Nature uno dei peperi più prestigiosi mai fatti da noi hanno un posso dirvi che Google ha una macchina di relazioni pubbliche impressionante hanno risorse praticamente illimitate e hanno delle capacità pazzesche quando ho incontrato il team che voleva lavorare con noi mi permetto di guardare i ragazzi e i ragazzi qua avevano la vostra età una cosa impressionante giustamente perché questo è il futuro quindi lo si applica a questa applicazione per l'energia vi do un esempio di queste difficoltà noi dobbiamo avere una potenza che va sul bordo della nostra bottiglia di 10 milioni di watt per metro quadro 10 milioni di watt per metro quadro non vi dice molto il numero? beh se fate entrare un satellite in atmosfera è 10 volte meno se fate un gradatore nucleare convenzionale è 10 volte meno se fate una turbina di un Boeing 737 è 10 volte meno l'unica cosa che si avvicina anzi è un po' di più ma c'è un ma è quando lanciate un razzo nello spazio ci ha provato Elon Musk non è andata benissimo perché? perché il razzo quando va nello spazio parte molto veloce e tutte le componenti sono soggetti a quasi 80 milioni di watt per metro quadro ma sono soggetti per quanti secondi? un minuto? 60 secondi? 80 secondi? e poi basta poi sono nello spazio non c'è più problema noi dobbiamo farlo 7 giorni su 7 24 ore su 24 per 30 anni quindi questa è un po' un po' la difficoltà ed è una delle cose che noi dobbiamo guardare la nostra road map è appunto devota e la stiamo facendo approvare dal Parlamento Europeo eccetera per andare il più velocemente possibile verso la centrale a fusione e per questo abbiamo bisogno di tutti abbiamo bisogno di lavorare in parallelo sull'intelligenza artificiale per controllare sull'intelligenza artificiale per costruire anche dei componenti che sono complessi sull'impressione a 3D in metalli eccetera quindi tutti questi elementi di innovazione c'è ancora della fisica per questo sistema insieme a complesso e dobbiamo farlo tutti insieme fisica e tecnologia a braccetto management economia tutti i tipi di approcci informatici e di nuove capacità di usare l'intelligenza artificiale perché noi vogliamo arrivare nei prossimi 20 anni e ci arriveremo in Europa a dimostrare che possiamo avere un reattore a fusione e a dimostrare che possiamo contribuire significativamente al problema dell'energia cioè dare una sorgente di elettricità di base che affianchi le rinnovabili perché il nostro pianeta non sia sotto un'ipoteca perché noi abbiamo quest'ipoteca che è quello di bruciare 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 dobbiamo dare alle generazioni successive e successiva ancora la possibilità di vivere almeno come abbiamo vissuto noi e non solo nei paesi privilegiati ma in tutto il mondo grazie per la vostra attenzione grazie 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 ad Ambrogio Pasoli per averci spiegato un progetto così complesso in modo così chiaro se l'avesse avuta come docente in fisica avrei avuto un voto decisamente migliore mi sarei magari candidata anche a questo suo progetto che speriamo diventi presto una risposta concreta a quella che è un'urgenza climatica ambientale che stiamo vivendo tutti l'appuntamento è tra vent'anni lo fissiamo l'appuntamento è tutti i giorni da qui a vent'anni complimenti per questi progressi del Swiss Plasma Center che ci rende tutti ancora più orgogliosi di essere svizzeri c'è qualche domanda dal pubblico? più di una più di una se avete voglia di alzarvi e andare nei punti grazie Roberto Keller ho trovato la X grazie è stato bellissimo sentirla una domanda qui si vede tutto molto gigantesco una miniaturizzazione che poi permetta effettivamente di dislocare questi motori chiamiamoli cosi stellari sul pianeta visto che tutti stanno concorrendo è già pensabile adesso oppure sarà dopo grazie grazie alla domanda la miniaturizzazione è un po' difficile da vedere al giorno d'oggi perché iter è così grande perché non siamo capaci di ottenere un bilancio positivo se in una stella più piccola diciamo così ma man mano che avanziamo e all'Osanda stiamo facendo le ricerche proprio in questa direzione più avanziamo più riusciamo a rendere il sistema efficace e quindi rimpicciolirlo un po' però chi promette delle cose che siano tabletop grandi qualche centimetro mente perché non è possibile farlo così piccolo sarà sempre una centrale relativamente grande ma è quello di cui abbiamo bisogno una centrale a fusione sarà in grado di alimentare almeno per esempio il canton ticino intero ma forse no di più del canton ticino stiamo parlando sulla Svizzera di qualche centrale a fusione per esempio diciamo la mia Milano che ho menzionato prima potrebbe essere alimentata e metà Lombardia da una centrale a fusione quindi saranno elementi piuttosto grandi ci saranno delle versioni un pochino magari più piccole ma minuscole è difficile pensarle ho un progetto di studenti del liceo di Lausanne che sono venuti proprio l'altro ieri a trovarmi perché hanno il progetto di mettere un Tokamak a fusione nel cuore di Spiderman e ho cercato di fare dei calcoli insieme a loro non è facilissimo siamo un po' lontani da quello c'è un'altra domanda del professor Paolini non ho capito il passaggio dall'energia della fusione all'energia elettrica come è la tecnologia che trasforma la fusione all'energia elettrica allora è una domanda un pochino più tecnica mi rispondo in maniera mi permetto di rispondere in maniera un pochino più tecnica la fusione mette insieme idrogeno o isotopi dell'idrogeno e spara fuori neutroni ad altissima energia e questi neutroni ad altissima energia vengono frenati in un liquido che può essere dell'acqua e quindi scaldiamo l'acqua e poi quest'acqua viene fatta passare dalle turbine e così come praticamente tutte le sorgenti che conosciamo come la fissione come il carbone fa e fa un ciclo di vapore oppure ci saranno idee più innovative quando avrò scaldato l'acqua avrò vinto la mia battaglia poi sarà agli altri di fare quella è una parte relativamente semplice se non ci sono altre domande io ringrazio ancora Ambrogio Fasoli grazie a voi in bocca al lupo e buon lavoro grazie a tutti